le convocazioni più inaspettate della storia o almeno per quel che mi riguarda stavo tranquillo perché dico se non sbaglio le partite della nazionale italiana ci saranno la prossima settimana dico quindi magari non lo so le convocazioni di spalletti arriveranno lunedì martedì prossimo se gioca contro malta il 14 ottobre alle 20 e 45 che è sabato e poi contro l'inghilterra il 17 ottobre sempre alle 20 e 45 ricordo qualificazioni euro 2024 invece meno male che mi è arrivata la notifica perché stavo per pubblicare un altro contenuto altrimenti ve l'avrei portate domani con calma ma detto questo bentornati e ben ritrovati sono qui per agire in diretta appunto a queste qualificazioni che ha diramato luciano spalletti ci sono delle novità secondo me anche abbastanza importanti delle scelte anche abbastanza drastiche sono qui per commentare tutto quanto vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace per supportare questo genere di contenuti arriviamo a 522 mila iscritti e ce vuole veramente poco ad arrivarci lo ribadisco no siamo vicinissimi all'obiettivo se volete la live reaction di italia a malta la prossima settimana ovviamente poi ci sarà anche inghilterra italia ma quella ve la porto a prescindere approfittate il 40 per cento di voi su questo canale ancora non è iscritto ma segue sempre i video proviamo a raggiungere questo obiettivo se attivate la campanella non vi perdete più niente due canali di calcio un canale extra calcio tutti in descrizione come sempre compariranno qui durante il video mi faccio un po più in qua perché qui vi metto ovviamente i nomi dei calciatori scelti da luciano spalletti se non sbaglio in totale per il momento sono 27 i calciatori e probabilmente un minimo questa lista poi verrà scremata nei prossimi giorni verrà scremata perché la natura farà il suo corso per no non pensate a male perché detta così è particolare che qualcuno si scoccerà sicuramente spero non calciatori e situazioni della roma allora detto questo si ce ne stanno un paio dei calciatori della roma stava di ma ha convocato qualcuno da roma assolutamente sì vi faccio come sempre il mio toto scommesse chiamatelo come mi pare no sui calciatori che secondo me giocheranno queste due partite quindi il mio 4 3 3 ideale in base ai calciatori ovviamente che ha convocato quindi poi vedremo se indovinerò qualcosa provate a farlo anche voi qui sotto nei commenti come sempre se parte dai portieri ne sono stati portati quattro che mi sembrano un po tantini se pensiamo che ci stanno due partite che di solito gioca sempre in portiere sì ok portassero delle quattro mi sembra esagerato probabilmente poi uno verrà lasciato a casa comunque le scelte sono praticamente no scelte anche abbastanza obbligate in questo determinato momento storico donna rumma e vabbè ok dice donna rumma obbligato la situazione un po particolare per donna rumma e non sta affrontando uno dei suoi migliori momenti in carriera meretta del napoli prove della lazio che addirittura ha segnato un gol in in champions league e vicario del tottenham qui si torna al discorso che facevamo qualche settimana fa no perché io continuo a pensare che spalletti non abbia il coraggio di cambiare anche perché poi al netto di tutto quanto secondo me anche controproducente lo ribadiscono prendere finora donna rumma è sempre stato protagonista indiscusso no della nazionale italiana praticamente da tantissimi anni a questa parte da quando buffon ha lasciato la nazionale ormai donna rumma è il titolarissimo per eccellenza credo non voglia destabilizzare più di tanto quindi credo che alla fine giocherà gigio donna rumma seppur ragazzi io vi dico la verità e ve lo dico da difuso della roma un provedel non mi dispiacerebbe anche lo stesso vicario ma pure lo stesso meretti in realtà è io credo che giocherà donna rumma comunque senza se senza ma ecco chi può essere quello che può chi lo sa magari contro malta darà la possibilità al prove del almeretto al vicario della situazione poi farà giocare donna rumma nella partita per eccellenza più importante no perlomeno sulla carta poi importantissima anche quella con malta perché servono ovviamente punti pesanti per per qualificarci e poi magari farà giocare donna rumma contro l'inghilterra no secondo me farà giocare in entrambe le occasioni le situazioni gigio donna rumma andiamo alle qualificazioni alle convocazioni dei difensori perché qui c'è qualche novità qualche piccola novità innanzitutto vabbè acerbi bastoni biraghi darmian che se lo stramerita a mio modo di vedere di lorenzo macchetto di gaffà dice no perché l'errore ragazzi miei non provate neanche minimamente a dire l'errore di di lorenzo contro real madrid di lorenzo uno che veramente non sbaglia mai e ci può stare di marco imprescindibile gatti tante polemiche su questo calciatore soprattutto in questo determinato momento storico l'autocoll una situazione in altra però ragazzi ormai fa parte del gruppo è ancora no relativamente giovane può crescere giusto assolutamente portarlo a mio modo di vedere mancini che comunque piace parecchio a spalletti scalvini strameritata come convocazione e udoghi udoghi anche secondo me ragazzi stramerita la convocazione con la nazionale italiana è un calciatore veramente molto molto interessante ovvio che sulla carta no a davanti mostri sacri attualmente secondo me nei nei titolari soprattutto nel titolare del suo ruolo però ci può tornare particolarmente utile quindi secondo me mai ci fu scelta più azzeccata da parte di luciano spalletti qualcuno potrebbe dire il calabria della situazione io vi vengo a dire che per il momento ragazzi miei un calabria in più un calabria in meno un florenzi in più un florenzi in meno secondo me cambia poco nel senso come pacchetto come reparto siamo ben attrezzati quindi non mi andrei a lamentare più di tanto chi gioca a titolare per me sarà 4 3 3 o al massimo 4 2 3 1 conosciamo spalletti però secondo me sarà sarà 4 3 3 quindi mi vado a basare su quello comincio dagli esterni a destra giocherà di lorenzo magari lo farà rifiatare contro malta lo farà subentrare lo risparmierà un minimo no anche in vista di ipotetici grattamo se i pal infortuni e quindi destra di lorenzo sinistra ragazzi veramente attualmente di marco è un mostro sacro per eccellenza è vietato non far giocare un calciatore così ma non è una questione di forma è proprio che è forte di marco ragazzi cioè per quello che apporto che ti può dare sia all'interne se sta scaricando la batteria sia in generale proprio alla nazionale e i titolari centrali ragazzi secondo me uno sicuramente sarà scalvini e l'altro sarà bastoni io credo se non sbaglio nell'ultima partita della nazionale italiana hanno giocato loro titolari non vorrei dire una cafonata perché poi io c'ho la memoria abbastanza corta però credo che sia questa la direzione regà per quanto poi mancini è un'ottimissima alternativa gatti parte indietro soprattutto per questo momento periodo no ma sarebbe comunque partito indietro a prescindere ragazzi comunque come ricambi sugli esterni udogi da una parte e darmianna dall'altra lo stesso biraghi poi è a me veramente non non sembra niente male lo stesso acerbi è che un calciatore che va assolutamente rispettato quindi ribadisco di lorenzo di marco e secondo me scalvini bastoni centrocampisti convocati abbiamo barella bonaventura che se lo sta strameritando ragazzi cristante frattesi locatelli e tonali qualcuno potrebbe dire mai il fagioli della situazione il miletti della situazione questo è quello quell'altro frattesi sembra aver recuperato completamente dal punto di vista fisico mi sembrano con vocazioni veramente niente male lorenzo pellegrini si è scocciato ragazzi perché probabilmente avrebbe portato pellegrini e non avrebbe portato bonaventura questa è la mia personale ipotesi poi non lo so magari avrebbe comunque lasciato a casa pellegrini vedete però quello che è l'impatto dei pellegrini no quando entra comunque no decisivo in termini di gol di assist quindi stava riprendendo un minimo la forma si è scocciato la scelta bonaventura secondo me ragazzi poi con uno come spalletti può fare veramente tutta la differenza del mondo veniamo ai titolari perché allora io ti dico sulla mediana giocherà solo un mediano ti dico tonali probabilmente e poi ti dico barella frattesi io credo che questi saranno i titolari o addirittura ragazzi quale alternative le scelte sono veramente infinite in realtà è cristante dove lo metti sta lo mette sulla mediana lo puoi mettere come mezzala ha dimostrato quello che è che è il suo valore forse ecco attualmente lascia cristante fuori però mo che sulla mediana per quanto poi ovviamente può fare anche la mezzala cristante mezzala e l'altro è barella con frattesi pronto a subentrare bonaventura pronto a subentrare lo stesso locatelli tutti pronti a subentrare e ok la mia scelta l'ho fatta attaccanti convocati qualche critica di troppo anche in questa situazione soprattutto su un paio di calciatori che attualmente stanno in forma e che è stato deciso da parte di spalletti di non portare portati berardi chiesa moiscan occhin raspadori scamacca zaccagni e zagnolo attualmente politano uno dei calciatori più in forma del napoli è stata presa la scelta di non portarlo e non la comprendo onestamente perché poi a meno che non sia scocciato e non me ne sono reso conto conosco poi spalletti no è anche abbastanza un fedele politano di luciano spalletti ha fatto altre ha fatto altre scelte al momento e soprattutto orsolini ragazzi guardando l'ultima tripletta guardando il suo attuale stato di forma probabilmente io fossi in stato in spalletti non mi sarei privato forse né depolità non è di forse sì però chi va a toglierla c'è anche quello il discorso no manca ad esempio giro immobile io vi dico che per l'attuale periodo ragazzi per quanto poi ken non è che stia facendo tutto sto granché ultimamente c'è da dire anche questo è però forse dal punto di vista immobile forse è giusto lasciarlo a casa in questo determinato momento storico poi è capace che se ne scoccia uno e se porterà immobile perché insomma manca una settimana otto giorni alla prossima partita può accadere perché conosciamo le le fortune barra sfortune della della nazionale italiana allora chi gioca centro destra e sinistra prima punta scamacca sembra sia sembra insomma abbiamo visto anche con l'atalanta è è rientrato sembra sia recuperato io ve la butto lì ragazzi ma mi sento parte che poi spalletti si può inventare veramente qualsiasi cosa è falsi nuove i raspatori della situazione manca gnonto per esempio se se andiamo a guardare che ultimamente da da ct della nazionale italiana spalletti nelle ultime aveva anche aveva anche portato mi sfugge se è infortunato o meno ecco vi dico sulla destra giocherà berardi sicuro 100 per cento se chiesa sta in forma è riportato convocato poi se non mi sbaglio oggi allegri ha detto che chiesa è indisponibile quindi vabbè intanto in via preventiva l'ha chiamato se ci sarà secondo me probabilmente giocherà lui berardi da una parte chiesa chiesa dall'altra io mi espongo e vi dico che penso giocherà scamacca titolare mois can pronto a subentrare da da prima punta in realtà idem per tutti gli altri ragazzi zaccagni sulla sinistra zagnolo sulla destra raspatori jolly per eccellenza ci sarà da divertirsi io in realtà spero ci sarà da divertirsi non solo contro malta spero soprattutto contro l'inghilterra perché poi capite bene che sono partite decisive in ottica qualificazione ad euro 2024 vi ricordo rapidamente la classifica l'inghilterra ormai è volata a 13 con 5 partite giocate noi abbiamo quattro giocate siamo a 7 ma siamo secondi con l'ucraina a pari punti stessi punti per la macedonia mi ero completamente dimenticato tre squadre appagliate noi abbiamo il vantaggio del turno in meno giocato quindi quattro partite per noi 7 punti ucraina e macedonia 7 punti ma con 5 partite e malta ha fatto 0 punti io contro malta non aspetto una vittoria occhi chiusi e poi ragazzi il tutto per tutto ce lo dobbiamo giocare con le unghie con i denti contro l'inghilterra perché possono essere punti pesantissimi l'inghilterra non ci regalerà nulla ne parleremo di una preview dedicata insieme al buon fabio però ecco insomma i calciatori ci sono calciatori che possono essere decisivi piano piano l'italia di spalletti sta prendendo piede c'è modo per i calciatori di amalgamarsi con il nuovo allenatore quindi spero di cominciare a vedere qualcosina in più io vi ringrazio per la visione di questo contenuto la vostra qui sotto nei commenti come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video